Prima di iniziare ragazzi vi ricordo di lasciare mi piace, condividere e commentare questo video Iscrivervi al canale, accendere la campanella delle visi per rimanere sempre aggiornati E di consultare tutti quanti i link utili in descrizione I link per diventare Patreon, per abbonarsi al canale Per seguirmi sulle pagine social Per comprare i miei libri, se vi piacciono questi racconti, ho scritto anche due libri Il destino di Loki e Il dovere di Ade Trovate il link per recuperarli su Amazon, sia in formato Kindle che in formato cartaceo Trovate anche il link per Pampling, codice sconto, Grivit per avere il 20% di cashback e un paio di calzi in omaggio Su ogni vostro acquisto che farete in questo store sconfinato di felpe, magliette, scarpe con grafiche a tema nerd Trovate anche il link per Iride Mondi in Contatto Dove potete commissionarmi racconti o commissionare anche fan art e la gestione delle vostre pagine social Dateci sotto, mi raccomando, tutti i link utili in descrizione Detto questo ragazzi, buon video e buon racconto a tutti Le orde dei Germani rastrellavano le strade di Ravenna cercando qualsiasi uomo politico In modo che le pretese del loro comandante giungessero il prima possibile a chi di competenza E Zenone, imperatore d'Oriente, potesse nominare Odoacre, patrizio e governatore d'Italia La città, a dirla tutta, non era tanto più avvolta nel caos di quanto non lo fosse stata nelle ultime decadi Ma era chiaro che qualcosa era cambiata Nelle sue stanze il giovane imberbe Romolo Augustolo Chinava il capo e firmava un documento ufficiale da inviare al suo equivalente in quel di Costantinopoli Con quella firma, l'impero romano d'Occidente aveva sostanzialmente fine Non ci sarebbe stato nessun altro imperatore dopo il giovane Romolo E lentamente i grossi cambiamenti che avevano già scosso Roma Avrebbero condotto a esiti fuori dalle previsioni di chi per prima Aveva provato a benedire quel territorio con la sua presenza Peccato che gli originari piani di Estia erano stati decisamente rovinati Prima dall'avvento di Ares, intenzionato a rifarsi una vita a Roma E poi da quello di Atena, di tutti gli altri Olimpi Cambiarono i loro nomi, si appropriarono di patronati appartenuti a dei ormai dimenticati E tutto era andato a rotoli Come Estia o Vesta aveva largamente previsto Fin dalle prime scaremucce fra i fratelli Che per loro egoismo avevano rovinato il suo rifugio lontano dalla famiglia Perché Estia non dava la colpa a Zeus o a Poseidone o ad altri Per ciò che era successo a Roma e al suo impero Bensì ad Ares e Atena soltanto Che, nel loro voler continuare a dimostrarsi l'uno superiore all'altra Avevano spinto quella tanto tranquilla popolazione di Pecorari Ad andare oltre, sempre più in là Arrivando a fare non uno, non due Bensì mille passi più lunghi della gamba E proprio nella stanza di Romolo La via del focolare aveva condotto, tenendoli per le orecchie I suoi tanto odiati nipoti Rimanendo invisibili ai mortali Ma facendo in modo che i giovani olimpi capissero l'entità del loro sbaglio Torcendosi per il dolore provocato dalla presa alle orecchie Sorprendendosi per la quantità in male di forza Che la maggiore e minore dei cronidi nascondeva Ares e Atena mugugnavano E cercavano di divincolarsi Pur capendo cosa volesse da loro la zia fuoribonda Abbiamo capito Ma che possiamo fare? Non è che abbiamo deciso tutto noi Pianucolò Ares Mettendo una mano su quella della zia E cercando di forzarne la presa Senza alcun successo ovviamente I mortali sono sempre La rovina della loro stessa gloria Aggiunse Atena Cercando di mantenere il contegno Pur essendo paonazza in viso per la vergogna Estia sbuffò Eh ma allora non avete capito un cazzo E la dia del focolare smaterializzò se stessa E i nipoti lontano da lì Tornando nelle parudi vicine a Roma E gettando via i giovani parenti Come fossero spazzatura I due dei cadere in un acquitrino E così insozzati Dovettero affrontare la furia di Estia Letteralmente avvolta di fiamme Divina zia Ti prego Non puoi Azzardo Atena Ma la dea Sua zia La folgolo con lo sguardo E per fortuna Solo metaforicamente Divina zia Un cazzo Ci avete rovinato tutto E dire che ci ho provato Ad arginare la vostra influenza E persino i romani Armati del loro sbatterse L'ercazzo della religione Hanno resistito Ma invece voi no Avete insistito Insistito E mo Adesso è tutto finito Ruggì Estia Mostrandosi così infuriata Per la prima volta Davanti ai nipoti Ma noi abbiamo dato Ordine e disciplina Al popolo Cercò di giustificarsi Ares È tutta la parte migliore Della cultura Che abbiamo patrocinato In Grecia Aggiunse Atena Il cui ruolo a Roma Nonostante i suoi sforzi Era stato decisamente Ridimensionato No Voi avete continuato A insistere Coglioni Avete continuato A insegnare loro I modi di vivere Che obbligatoriamente Avrebbero condotto L'intera popolazione De Roma Al disastro Per l'Olimpo La città Neanche si sarebbe Dovuta chiamare Roma Erano i latini Prima che sto coiore Non decidesse Di rovinare la vita Di una mia Sacerdotessa Io non sono un Provò ad obiettare Ares Estia Lo folgorò con lo sguardo Questa volta letteralmente Lasciandolo bruciacchiato E impaurito Nella sporca acqua palustre Infatti Sei molto più Che coglione Ma volevo essere gentile Non che tua sorella Sia tanto meglio Io ho portato Quei pecorari belligeranti La cultura E l'amore per Esordia Atena piccata Una palla di fuoco Le sfiorò la spalla E la dea Impallidendo Fu costretta Al silenzio Tutto quello Che avete fatto È stato Un lavaggio Del cervello Ad un certo punto Non si ricordavano Più neanche Di adorare voi Almeno Iside È stata una collega Decisamente più Pacata di voi Che a furia Di far vedere Che ce l'avesse più lungo Avete apportato alla rovina Un intero continente Poi ovviamente Passiamo sopra I cristiani Perché altrimenti Quelle orecchie Ve le stacco dal cranio Per ora arriva Odino A Roma Vi pare che io Mi dovessi far sfrattare Dal mio rifugio Da un sadico Vecchio cieco Esti avanzò Verso i nipoti Incutendo loro Quello che molti Avrebbero definito Timore di Dio E i due figli di Zeus Tremarono Mentre la zia Afferrava nuovamente Le loro orecchie E trascinava Entrambi via Lassaci Urlarono all'unisono Atena e Ares Con un tono di voce Degno di un bambino Corcazzo Ora ce ne andiamo Tutti quanti Da qui E se mai Qualcuno Dovesse ricordarsi Di me A Roma Voi starete Alla larga Dai miei domini Chiaro? Concluse Urlando La normalmente Pacata Dea del Focolare I due olimpi Annuirono E si lasciarono Trascinare Dalla zia Fino al monte Olimpo Una punizione Che comunque Esti ritene Fin troppo leggera Per tutti i disastri Che Atena e Ares Avevano generato A Roma Una città Che doveva diventare Il piccolo Pacifico rifugio Della prima Dei cronidi E che per ambizioni Personali e sregolate Era diventata Un impero Crollato su se stesso Per la troppa Tracotanza Di chi avrebbe dovuto Ispirarlo E proteggerlo Con buona pace Della povera dea Che nella penisola italica Cercava solo un rifugio Che fosse lontano Dalla follia familiare Follia per cui Ancora una volta Aveva dovuto Rinunciare A tutto Persino All'accento romano Che pian piano Ho fatto scemare Pur non sapendolo fare Scusatemi Molta gente L'ha consigliato Ma questa traccia La volevo scrivere io Ve lo dico Chiaramente Era già In programma Che la dovesse iscrivere Un sequel Di focolare Furibondo Voi tra l'altro L'avete posta In vari periodi storici Io l'ho posta Proprio Tra l'altro Forse è arrivata Una traccia del genere Alla fine Di Roma Quindi proprio Alla fine Del focolare romano Con la firma Del documento Per cui Romolo Augustolo Cede il comando A Odoacre Ponendo effettivamente Fine All'impero romano Questa cosa In realtà Vorrei dire Che Spiro L'avete studiata Nei libri di storia Ma tipo Io per primo A scuola Non l'ho studiata Cioè tutta la diatriba Legale Che c'è stata Per far nominare Odoacre Governatore Governatore D'Italia Perché Odoacre Non sarà mai Imperatore Sarà sempre Governatore Poi ci saranno I re D'Italia Al massimo Gli imperatori D'Occidente Smettono di essere eletti Anche dopo la conquista Quindi non è che Mantengono Questo ruolo E c'è tutta una Diatriba Di lettere Fatte inviare Da Odoacre A vari politici Presenti a Ravenna All'imperatore Zenone D'Oriente Che doveva Autorizzare Il potere Politico Di Odoacre Dell'impero D'Occidente Perché non si Studia un po' Meglio Il crollo Di Roma A scuola Perché io mi ricordo Che era un paragrafo Alle elementari Il crollo Di Roma E anche alle medie Superiori Francamente Non me lo ricordo Neanche Ma non c'era Tutta sta spiegazione Sulla prassi Burocratica E divertente Sta ruba Fa vedere Quanto fossimo Bevuti di cervello Già 2000 anni fa E bellissimo E ovviamente Con il crollo Dell'impero romano Anche Estia Impazzisce Di rabbia Dà l'ultimatum A i suoi nipoti E pian piano Perde Quel falsissimo Accento romano Nello scorso racconto Tant'è che Questo racconto Quest'anno Non l'ho voluto Passare ad Andros Per farmelo Tradurre In romanaccio Stereotipato Perché volevo Che fosse Sempre più Raffazzonato E il racconto Diventasse Sempre più Italiano Nel parlato Perché Estia abbandona Roma E quindi Abbandonando Roma Abbandona anche Quell'accento Romanaccio Che aveva preso La metafora Sarebbe quella Ve l'ho detto Anche in chiusura Della traccia audio Spero di non aver fatto Troppo schifo A fare qualche Caduta romanaccio Che è parese Era un romanaccio Barese Ma vabbè Perdonatemi Perdonatemi Io spero che il racconto Vi sia piaciuto Trovate i link in descrizione Nel primo commento Fissato in alto Per il testo Di questo racconto Noi ci vediamo domani Col ventesimo racconto Che è un sequel Che avete chiesto In tanti Di un racconto Che avete chiesto Nel primo mi dovembre In tantissimi E che già allora Non volevo scrivere E figurarsi Se quest'anno Perdonavo ancora una volta I protagonisti Che tanto avete voluto Nei racconti Per fortuna che c'è Mystery Era Mystery Che l'ha consigliato Questo? No Era Drake Era Drake Per fortuna che c'era Drake A capire la mia forma mentis A domani Per fortuna che c'era